Neck torna a essere uno dei maggiori protagonisti del gossip italiano, una notizia shock che arriva per lui come un vero e proprio fulmine a ciel sereno. La carriera di Neck è costellata da numerosi successi e canzoni che gli hanno permesso di diventare uno dei maggiori protagonisti della musica italiana, con canzoni che ancora oggi troviamo di giorno in giorno in rotazione radiofonia. Anni di lavoro intenso che hanno favorito anche varie partecipazioni al Festival di Sanremo, il cantante e autore e compositore di brani che hanno collezionato dei record di ascolti. Neck, poi, durante gli anni segnati dal Covid-19, inoltre, è stato il conduttore del Seat Music Award 2020, evento studiato ad hoc per far ripartire la musica dopo la pandemia. Il tutto non finisce di certo qui, dato che per il cantante è arrivata una notizia davvero scioccante. Nessuno immaginava una cosa simile per lui. Fulmine a ciel sereno per Neck. Nei giorni scorsi Neck ha lasciato i propri fan senza parole grazie al racconto di uno dei momenti più belli della sua vita, arrivato con le nozze della giovanissima Martina, figlia della moglie Patrizia, nata da una predente relazione. Il cantante e il padre biologico della ragazza, l'hanno accompagnata all'altare per il suo giorno speciale e il video pubblicato sui social, sono diventate subito virali sui social. Nonostante la gioia immensa del giorno speciale, l'attenzione del popolo del web e dei fan notando come Neck negli ultimi anni sembrerebbe fortemente dimagrito. A rispondere ai messaggi in questione, non a caso, ancora una volta è stato lo stesso cantante. Neck, la grave perdita inaspettata. I fan del cantante negli ultimi anni non hanno potuto fare a meno di notare come il cantante sia fortemente dimagrito. Messaggi che sui social non sono passati inosservati. Una polemica sulla forma fisica di Neck iniziata negli anni scorsi, e della quale ha parlato durante una lunga intervista rilascia a Francesca Fialdini, ospite del programma Da Noi. A ruota libera. In quell'occasione, infatti, la conduttrice ha parlato proprio dei tanti messaggi recapitati al cantante da parte di fan che reputavano fosse dimagrito molto rispetto agli anni precedenti. La risposta di Neck, comunque sia, è arrivata diretta in risposta alle tante polemiche. Il cantante davanti le telecamere del programma di Casa Rai, infatti, ha rilasciato il seguente commento mettendo a tacere le critiche e rivelando il perché dei tanti cambiamenti messi in atto di recente, mi tengo in forma, se no è un delirio.